Sulle avventure di Juan Carrito si è detto e si è scritto molto, in qualche caso anche troppo. L'ondata di affetto per il nostro orsacchiotto birichino è stata travolgente, ma allo stesso tempo ha contribuito a far emergere i problemi e le difficoltà che la specie affronta nella sua dura lotta per la sopravvivenza. Per una regione come l'Abruzzo, che ha fatto della biodiversità e dei parchi il proprio must, il tema è quanto mai importante. Non è un caso dunque che se ne sia parlato anche alla recentissima bit di Milano. La complessa gestione della specie è stata oggetto dell'incontro La terra degli orsi, la sfida delle responsabilità, organizzato dal Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise anche per fare chiarezza sulle recenti polemiche che hanno riguardato la fine di Juan Carrito. Abbiamo parlato di orso Bruno Marsicano anche alla Borsa Internazionale del Turismo che in questi giorni è a Milano, lo abbiamo fatto nello stand della regione Abruzzo in occasione di un incontro aperto a cui ha partecipato anche l'assessore al turismo della regione Abruzzo, D'Amario. Lo abbiamo fatto parlando di responsabilità, che fa capo ovviamente a chi è chiamato in via istituzionale a fare tutela e conservazione, quindi le aree protette, i parchi nazionali in primis, ma anche le aree regionali, le riserve regionali. La stessa regione Abruzzo che con Carrito ha fatto un deciso salto di qualità, mettendosi finalmente a rete, a sistema, dando un contributo significativo insieme ovviamente alle aree protette, alle forze polizie, ai carabinieri forestali. e ne abbiamo parlato anche in merito ovviamente alla grande responsabilità che hanno i media, i mezzi di informazione, la stampa, che a maggior ragione nell'epoca del web raccoglie una serie di informazioni e ha il dovere di verificarle, ha il dovere di andare a fondo, ha il dovere di non rilanciare ovviamente notizie che non sono o non hanno fondamento. Tutto questo è un sistema complesso, tutto questo è un sistema che ovviamente richiama la responsabilità di soggetti istituzionali, anche chi gestisce le strade, l'ANAS e la provincia nel nostro caso, ma anche di singoli soggetti privati, quelli che si approcciano alla montagna, quelli che si avvicinano agli animali, che hanno tutti, dobbiamo avere, il senso del limite. Sulle strade c'è un limite di velocità, andando in natura ci deve essere il limite del rispetto con gli animali, sapere che certi confini, certi limiti non vanno superati per assicurare agli animali quella tranquillità, quella pace, agli ambienti naturali in genere. Quindi è un sistema complesso che ha bisogno ovviamente di regole, regole che tutti dobbiamo conoscere e tutti dobbiamo rispettare.